ragazzi ennesima ripellata dobbiamo tornare su Aldos sci leggeri il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 andiamo in cima al DOS 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 Il nostro portone, vista al lago di Idro e lago di Garda. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ragazzi, indosso delle cornelle, paradiso del freeride prealpino, ci affrontiamo alla discesa. Grazie a tutti! 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 No, ma no, dico qua perché comunque ci vuole un po' di spinta, però non l'ho visto affaticato. No, era tranquillo. E allora, più allenato di te che crede mia. E' un po' di spinta. 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 Grazie a tutti